Voglio darvi alcune notizie. La prima buona notizia è che sono operative le squadre Covid-19, composte da tre o quattro medici e un infermiere, che prendono in carico i casi sospetti assicurando la dovuta assistenza in attesa del tampone. Esse sono totalmente operative. Sono sei per la provincia di Potenza e quattro per la provincia di Matera, tutte addestrate e munite di ogni dispositivo di sicurezza. Altra buona notizia è anche la partenza della piattaforma informatica, a cui accedono i medici di medicina generale, i medici dell'igiene e della sanità pubblica, insieme a quelli di continuità assistenziale e agli operatori delle unità speciali. Nella piattaforma vengono sindora riportati, oltre ai dati anagrafici del paziente, anche la sua eventuale sintomatologia. Sarà possibile inoltre richiedere da parte degli operatori l'esecuzione del tampone e l'approccio terapeutico precoce. Il tampone, una volta richiesto, sarà eseguito nelle 48 ore successive e l'esito sarà comunicato al paziente entro le 48 ore successive alla sua esecuzione. Questo processo metterà a riparo il sistema da tutte le polemiche strumentali di questi giorni e garantirà la tracciabilità del dato a tutti gli operatori autorizzati. Vi debbo dire inoltre che abbiamo anche potenziato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Potenza, con ulteriori professionalità e questo ritengo sia un dato molto molto importante per il controllo della malattia. Nel frattempo l'andamento della pandemia qui in Basilicata, sapendo un percorso che è al di sotto della media nazionale. Questo grazie alla vostra collaborazione, alla collaborazione dei sindaci, delle forze dell'ordine e di tutti quelli che sono impiegati in queste ore a far rispettare le ordinanze. Perché purtroppo l'unico vero antidoto al coronavirus per ora è la permanenza nelle nostre abitazioni. Ad oggi, e vi do il dato di questa mattina, sono stati effettuati altri 143 test. Di questi solo tre sono risultati positivi. Dall'inizio della pandemia in Basilicata sono stati effettuati 2.765 tamponi, di questi risultati negativi 2.499. Ci sono nove guariti e attualmente i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane sono in tutto 63. I morti purtroppo ci sono e sono dodici. dodici famiglie che piangono un loro caro scomparso. Dietro ogni scomparsa c'è un dolore incolmabile, me ne rendo conto, e su alcune di esse, rimbalzate alla cronaca, ho fatto aprire immediatamente un'indagine interna. E aspettando l'inchiesta della magistratura a cui si è rivolta una delle famiglie delle vittime, vi voglio dire che ho disposto a un'immediata indagine amministrativa per capire se qualcosa non ha funzionato nelle procedure. Quello che mi sento di dire con assoluta onestà è che nel caso vi fossero inadempienze, queste saranno valutate con la massima severità. Da parte mia in questi giorni vi ho più volte raccontato, senza nascondervi nulla, le difficoltà che abbiamo avuto e stiamo avendo nel reperire sui mercati secondari quanto ci occorre per dare sicurezza ai nostri operatori sanitari. Lo ribadisco qui per l'ennesima volta. La Regione Basilicata ha acquistato con fondi propri tutto ciò che occorreva, dai dispositivi di protezione personale, alle mascherine, alle tute, ai ventilatori e quant'altro. Poco o nulla è venuto dai vertici nazionali. Molto materiale deve ancora arrivare. Ci siamo anche trovati di fronte a una sgradita sorpresa di un blocco generale delle esportazioni, tamponi compresi, fermate all'aeroporto francese Charles de Gaulle. Come voi sapete, le nostre difficoltà sono quelle anche di altri sistemi sanitari regionali e posso ben capire che di fronte a un'emergenza conclamata come quella della Lombardia e del Veneto la protezione civile nazionale voglia privilegiare quelle regioni. Ma noi non siamo stati certo con le mani in mano. Leggo in queste ore le polemiche aperte sulla sanità lucana, a volte fatte da chi è stato responsabile di queste carenze. Però vi devo dire con franchezza che a me il teatrino della politica di chi cerca visibilità anche in questa sciagura non interessa. La strategia che ho messo in campo è duplice. Da una parte il contenimento del virus e dall'altra abbiamo pensato a strumenti economici a sostegno delle famiglie e delle imprese. Perché non solo è importante uscirne vivi, ma è necessario anche che una volta finita l'emergenza ci siano le condizioni economiche per una rapida ripresa. Ora è il momento dell'unità e pur nella distinzione dei ruoli dobbiamo traghettare tutti insieme la nostra comunità fuori da questo terribile nemico sconosciuto. Poi ci sarà tempo e modo per specificare le nostre differenze. A tutti voi chiedo un altro poco di pazienza. Evitiamo che comportamenti avventati buttino a mare i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi. Ed anche se in Basilicata siamo messi meglio di altre regioni, non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia. Proprio ieri ho firmato l'ordinanza che prorogo la chiusura del Comune di Moliterno e la proroga di tutte le altre ordinanze da me emanate fino alla data del 13 aprile. Coraggio, sono convinto che insieme ce la faremo. Sconviggeremo questo virus invisibile. Grazie a tutti.